Ciao a tutte amiche e amici, oggi vi farò un nuovo video ma è solamente di presentazione degli ultimi lavoretti che ho fatto, aspettavo di averne un po' per fare l'infornata, come vuol dire e adesso ve li presento, allora ho 2 ciupa ciupa con le faccine, ecco qua, molto carini, rosa, poi ho 1, 2, 3 funghetti, 3 funghetti stile Super Mario, ecco, tipo, poi ho fatto una carotina, una carotina, eccola qui, la faccina simpatichina anche lei, poi ho fatto 2 arance, 2 arance, eccole qua, poi ho una melina, poi ho fatto una topolina, con il fiocchettino, poi ho fatto, non sono di fimo, però vabbè, sono 2 zuccheri filati, spero che si vedano bene, uno ha dei glitter rossicci, l'altro è tutto bianco, con i glitter bianchi, poi ho fatto dei gelatini, ecco qua, questi due hanno dei brillantini, questi due invece sono normali, ecco qua, e poi ho fatto, per finire, due sagomine di mini, una col fiocchetto, sembra viola nel video, però è un rosa un po' scuro, con i pois bianchi, ovviamente, e l'altra un po' più tipica e classica, col fiocchetto rosso, sempre con i pois bianchi, ecco qua, questi charms li userò su dei bracciali, oppure dei phone strap per i cellulari, e perché sono abbastanza piccoli, e poi, a parte questi due, queste due qua, le altre sono tutti diversi, quindi non potrò fare degli orecchini, ovviamente, comunque, in qualche modo li utilizzerò. Con questo è tutto, vi saluto, ciao, alla prossima!